...di difenza, prova lo stacco, prova il pallone, non riesce a dirigere, non può escegliere il Dio, che è la difenza a fare un'età, che si trasforma in attacco, con questo gruppo di cazzare, la palla è molto profonda, c'è il recupero di me, perché il retropassato è il diritto di Giorgio, e la palla lo mette fuori aria, giocata dunque dei difensori, che la palla si deve avvoler. Questo colticalica è il portale che ha...